3-0 dall'Atletic Bilbao sul Magdeburgo e siamo a Valona, Flamurtari addirittura in vantaggio nel secondo tempo al 23esimo con questo tiro di luce che sorprende Zubisarreti, ben bloccati Lineker e Hughes, il pareggio avviene proprio nei minuti conclusivi, nei momenti conclusivi della partita ad opera di Estban che era entrato intorno al trentesimo minuto della ripresa e che vedremo realizzare con il numero 15 su questo allungo in profondità e bella conclusione.